Buongiorno a tutti, sono Elisa Mencacci e sono una psicologa clinica. Lavoro ormai da alcuni anni in un centro servizi per anziani e in un RSA per disabili adulti. Mi occupo inoltre di formazione per quanto riguarda le tematiche dell'accompagnamento al fine vita, alle cure palliative e per quanto riguarda il sostegno al lutto per professionisti e operatori dell'ambito sociosanitario. Tutto questo è stato possibile anche grazie al Master Death Studies. Il Master che ho frequentato nel 2012 mi ha infatti permesso non solo di acquisire conoscenze e competenze trasversali e indispensabili per poter lavorare in un ambito così delicato come quello dell'accompagnamento alla morte. Questo Master mi ha inoltre permesso di dare vita e di rendere concreti e applicabili alcuni progetti. Uno in particolare è stato il project work che ho creato e poi realizzato con alcuni colleghi incontrati proprio al Master. Questo progetto è divenuto successivamente realtà. È stato quindi reso possibile attraverso il Master fondare una Ollus che è ancora ad oggi attiva e operativa nel territorio Veneto relativa proprio all'accompagnamento alle malattie neurodegenerative, ambito di cui io mi occupo ormai da alcuni anni. Quindi consiglio fortemente di frequentare questo Master a tutti coloro che hanno voglia, che hanno il desiderio di mettere in pratica alcuni progetti, anche alcuni sogni che possono trovare vita attraverso questo bellissimo e intenso percorso.